Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Oggi la protagonista della ricetta è la menta, che in questo periodo della stagione abbonda nei giardini delle nostre case e con questa pianta cucineremo un ciambellone soffice, profumato, fresco, ma soprattutto buono, che si prepara in 5 minuti di orologio. Non ci credete? Allora non vi resta che seguire la ricetta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ciambella sono 100 g di foglie di menta, 2 vasetti di farina 00, mezzo vasetto di zucchero, un vasetto e mezzo di farina di cocco, 60 g di gocce di cioccolato, una tazzina da caffè di sciroppo di menta, 2 uova grandi, una bustina di lievito per dolci, un vasetto di yogurt intero ed infine un vasetto di olio di semi. Possiamo iniziare e nella solita ciotola grande rovesciamo le foglie di menta insieme allo zucchero e aiutandoci con le lame del mini pimer o quelle di un mixer frulliamo bene nel tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Proseguiamo unendo i liquidi al composto. Perciò iniziamo con lo yogurt, lo zucchero, e lo zucchero. Io come avete visto me lo preparo in casa, ma voi potete benissimo usare quello del supermercato. Lo sciroppo di menta, le uova. Se avete domande, dubbi o qualunque altra cosa scrivete un commento, sarò felice di rispondervi. E come sempre, per non perdervi le prossime ricette, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un mi piace al video. Vi ringrazio di cuore in anticipo. Ed infine l'olio. E proseguiamo a mischiare continuando con le fruste elettriche a velocità bassa, fino a che tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Ora aggiungiamo le farine partendo prima con la doppio zero. Poi proseguiamo con la farina di cocco disidratato. Ed infine il lievito. Ed emulsioniamo bene, sempre con le fruste elettriche, ma questa volta a velocità media. Quando tutto il composto risulterà mescolato, possiamo aggiungere le gole. E dopo averle amalgamate alla massa, trasferiamo le gole. l'impasto in una tortiera a forma di ciambella. E inforniamo il dolce a forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per 35 minuti. Ovviamente questa è la mia ricetta. Se qualcuno di voi la prepara in modo differente, può farmelo sapere nei commenti. È sempre un piacere imparare cose nuove. Una volta sfornata la torta, per renderla più golosa, la possiamo cospargere di crema alla nocciola. Fatemi sapere se questo dolce vi è piaciuto. È arrivato a questo punto, come al solito. Se la ricetta ti è piaciuta, un bel like in modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria! Ciao da Maria!